Un colpo a centrocampo, subito. La Juventus ci pensa. Non è un momento facile per comprare, anzi, ma con la giusta formula si può sognare. Per il centrocampo per gennaio il primo nome della lista resta Bruno Guimaraes, brasiliano classe 97 del Lione. Piace, e come, il centrocampista che viene dall'atletico paranaense. Ha sorpassato Denis Zakaria, conteso anche da United, Liverpool e Dortmund, ed è il profilo che il club bianconero vorrebbe portare subito a Torino. Questa è l'idea, che si scontra con diversi ostacoli. Il primo, la valutazione che il Lione fa per il giocatore, 45 meno 50 milioni di euro. Tantissimi, soprattutto oggi, subito dopo, la necessità del club bianconero di sfoltire un reparto fin troppo ricco. Rem si ha la valigia in mano, per Arthur la situazione è più complessa ma si lavora con l'Arsenal. Insomma, bisogna prima vendere. Intanto la Juventus ha registrato il gradimento di Guimaraes, che si vestirebbe volentieri di bianconero. Resta, al netto delle possibili cessioni, da convincere il Lione a lasciar partire il brasiliano in prestito con diritto di riscatto. Cosa che permetterebbe a Madama di valutare con calma il giocatore a Torino e di rimandare la data dell'assegno da spedire in Francia. Chia Jurapcian, che segue il giocatore, lavora ai fianchi il presidente del Lione Aulas. Le cose potrebbero cambiare molto velocemente, Dusan Vlaovic è l'uomo del mercato. L'attaccante della Fiorentina potrebbe subito dire addio, suggestione con la Juventus. Dusan Vlaovic sarebbe sul punto di andare via. A gennaio o a giugno con tante big d'Europa sulle sue tracce in ottica futura. Tra queste c'è anche anche la Juventus intenzionata a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Come svelato dall'edizione odierna de «La Gazzetta dello Sport», il centravanti serbio dei Viola, Dusan Vlaovic, ha messo a segno 17 gol in Serie A con il suo contratto in scadenza nel 2023. Il club bianconero avrebbe formulato fin da subito un'offerta alla Fiorentina con una parte di cash intorno ai 35 milioni di euro più il cartellino del talentuoso svedese, Dejan Kulusevski, dal rendimento poco costante in maglia bianconera. La Juventus vorrebbe così rinforzarsi in attacco con un'idea da urlo come regalo a Massimiliano Allegri per cercare di arrivare le prime quattro della Serie A. L'impresa non è così semplice, ma con un bomber così sarebbe tutto più facile. Come riportato dall'edizione de «La Gazzetta dello Sport», ci sarebbe anche una grande apertura da parte dello stesso Vlaovic. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stato anche un incontro tra Federico Cherubini e Darko Ristic, agente del serbo, che avrebbe svelato l'ok del suo assistito pronto a trasferirsi in bianconero fin da subito. Sulle sue tracce c'è anche il forte interessamento dell'Arsenal con Joe Barone che ha rivelato ai microfoni de «La nazione», qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno, noi, in ogni caso siamo a disposizione. Grazie Grazie